Ciao a tutti e benvenuti su Digital Best. Le chiavette USB sono dispositivi di storage portatili che consentono di archiviare e trasferire dati da un computer all'altro. Nell'era informatica moderna la chiavetta USB è un accessorio spesso indispensabile. Tuttavia, con così tante opzioni disponibili sul mercato può essere difficile scegliere la chiavetta USB giusta per le proprie esigenze. In questa guida all'acquisto esploreremo diversi fattori da considerare quando si sceglie una chiavetta USB, come la capacità, la velocità, gli standard, la sicurezza e altro ancora. E ti forniremo già una lista delle migliori chiavette USB divise per categorie, selezionate da noi tra le migliaia disponibili, permettendoti così di restringere il campo e scegliere con più facilità quella più adatta alle tue esigenze. Se ti interessa approfondire questo tema e stai proprio cercando una chiavetta USB, sei arrivato nel posto giusto. Mettiti comodo e goditi questa guida all'acquisto. Prima di iniziare ti ricordo che per raggiungere tutte le offerte Amazon selezionate lo puoi fare comodamente dai link che trovi proprio qui sotto nella descrizione del video. Grazie alla sua portabilità e alla capacità di trasferire file tra vari dispositivi. La chiavetta USB è diventata uno strumento indispensabile per molte persone. Esistono diverse situazioni in cui può essere utile avere una chiavetta USB a portata di mano. Ad esempio se lavori in un'azienda o in un'organizzazione che richiede il trasferimento regolare di grandi quantità di dati, una chiavetta USB può essere uno strumento utile per semplificare questo processo. Inoltre può essere utile anche per gli studenti che hanno bisogno di trasferire file da un computer all'altro o per archiviare le proprie presentazioni e progetti. Infine una chiavetta USB può essere utilizzata anche per il backup di file importanti, come strumento di ripristino in caso di problemi tecnici ad esempio al computer e anche per memorizzare file multimediali, avendo così la possibilità di riprodurli comodamente dai vari dispositivi player. La capacità della chiavetta USB è uno dei fattori più importanti da considerare. La maggior parte disponibili sul mercato hanno una capacità che varia da 16 a 256 gigabyte, ma alcune possono arrivare anche a 512 gigabyte e anche a ben 1 terabyte. Il formato da 8 gigabyte sta diventando sempre meno richiesto, ma è possibile ancora trovare chiavette USB di questo formato. Quelle con meno spazio invece ad oggi sono più che altro utilizzate e considerate come gadget promozionali. Se si prevede di utilizzarla soltanto per la memorizzazione di file di piccole dimensioni, come ad esempio documenti, presentazioni e foto a bassa risoluzione, una chiavetta USB con una capacità di 16 o 32 gigabyte potrebbe essere sufficiente. Se invece si hanno esigenze di archiviazione per file di grandi dimensioni, come film, video o collezioni di musica ad alta fedeltà, sicuramente una capacità maggiore sarebbe più idonea, e va scelta in base alla quantità di file che prevediamo di archiviare. In questo caso con l'aumento della capacità di archiviazione chiaramente aumenta anche il prezzo, cosa che accade maggiormente con i formati da 512 gigabyte e 1 terabyte. La velocità di lettura e di scrittura della chiavetta USB determinerà quanto velocemente i dati possono essere trasferiti in scrittura e lettura. Attualmente la maggior parte delle chiavette USB sul mercato viene fornita con una velocità media di trasferimento dati che va dai 5 ai 20 megabyte al secondo per le USB 2.0 e da 100 a 400 megabyte al secondo per USB 3.0, 3.1 e 3.2. Tuttavia ci sono anche alcune chiavette USB che possono raggiungere velocità di trasferimento dati ancora maggiori, come ad esempio quelle con lo standard 3.2 di seconda generazione, che possono raggiungere velocità anche di un gigabyte al secondo. Naturalmente la presa USB con la quale intendiamo leggere la chiavetta deve essere in grado di supportare questi standard. Ad ogni modo tutti gli standard solitamente sono retrocompatibili. Ci sono differenti standard USB disponibili sul mercato, tra cui 2.0, 3.0, 3.1 e 3.2. Ad oggi la maggior parte delle chiavette USB sul mercato utilizza l'USB 3.0, che offre una velocità di trasferimento dati superiore rispetto all'USB 2.0 e che è in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze di un pubblico medio. Tuttavia, se si dispone di un computer che supporta l'USB 3.1 o 3.2, si potrebbe considerare una chiavetta USB che supporti questi standard. Per una velocità di trasferimento dati ancora maggiore, sicuramente utile e a volte indispensabile nei casi in cui ci serve trasferire grosse quantità di dati nel minor tempo possibile. Per gli standard 3.1 e 3.2 esistono anche delle differenziazioni tra Gen 1 e Gen 2, che identificano la generazione di chiavette USB con questi standard. Quindi la generazione 2 è quella che offre le prestazioni migliori in termini di velocità. In alternativa, se si utilizza un computer o un dispositivo con una porta USB-C, si potrebbe anche optare per una chiavetta con un connettore di tipo C. Alcune integrano sia la connessione USB classica che quella USB-C, offrendo così una maggiore versatilità per coloro che utilizzano entrambe queste porte per archiviare e trasferire i loro file. La durabilità della chiavetta USB è importante se si prevede di utilizzarla frequentemente o di portarla con sé in viaggio. Si dovrebbe così scegliere una chiavetta USB con un involucro robusto e resistente, che possa resistere agli urti e alle cadute accidentali. Alcune chiavette USB garantiscono un livello di resistenza molto superiore, come ad esempio questa Corsair, che addirittura è resistente alle immersioni fino a 200 metri, almeno questo è quello che viene dichiarato dalla casa. È resistente anche alla polvere e il suo involucro è antiurto. Le chiavette USB sono disponibili in diverse dimensioni e forme. Ci sono anche quelle molto compatte, che vengono scelte per la loro portabilità e la comodità di poterle inserire facilmente in una tasca, nel portafogli o in un astuccio. Inoltre molte chiavette USB includono un occhiello per agganciarle ad esempio alle chiavi, il che le rende ancora più portatili e facili da trasportare. La sicurezza dei dati è un'altra considerazione importante quando si sceglie una chiavetta USB. Alcune chiavette offrono funzioni di criptografia hardware per proteggere i file da accessi non autorizzati. Quindi se si prevede di utilizzare un dispositivo come questo per archiviare file sensibili o confidenziali, si dovrebbe scegliere una chiavetta USB con delle funzionalità di sicurezza almeno basiche, se non addirittura di livello superiore. Chiaramente dipende dal valore dei dati che ci sono nella chiavetta. Se volete proteggere i vostri dati con una password, ma nello stesso tempo avere anche la possibilità di accedere più velocemente, quindi senza inserirla ogni volta, esistono anche chiavette USB con il sensore di impronte digitale integrato, come ad esempio questa di Lexa, che naturalmente insieme a tutte le altre la trovate ai link qui sotto in descrizione. Quindi registrando la vostra impronta o le vostre impronte attraverso l'apposito software contenuto nella stessa chiavetta o scaricabile dal sito del produttore, potete accedere in pochi istanti semplicemente poggiando il dito sul sensore. Quindi scegliere la chiavetta USB giusta dipende dalle proprie esigenze specifiche. Quando si sceglie una chiavetta USB si dovrebbe considerare la capacità, la velocità, gli standard USB, la trasportabilità, la sicurezza e la marca. Una volta valutati questi fattori si dovrebbe optare per una chiavetta USB affidabile e di qualità, che possa soddisfare le proprie esigenze di archiviazione e velocità di trasferimento dei dati. Abbiamo selezionato per voi le migliori chiavette USB tra le migliaia disponibili sul mercato. Le abbiamo divise anche per categorie, in modo da darti la possibilità di valutare e scegliere con più facilità quella più adatta alle tue esigenze. Ti ricordo che per raggiungere tutte le offerte Amazon selezionate lo puoi fare direttamente dai link che trovi qui sotto nella descrizione del video, dove troverai appunto tutte le chiavette che abbiamo selezionato divise per categorie. Spero che questa guida ti sia stata utile e ti abbia permesso di trovare la chiavetta USB più adatta per te. Prima di lasciarci ti invito a mettere un bel like, a condividere con coloro interessati al tema e naturalmente ad iscriverti al canale se non lo hai ancora fatto, attivando anche la campanella per non perderti le prossime novità. Un caro saluto a tutti e alla prossima, ciao! Ciao!